Ciao a tutti bella raga, oggi siamo in un nuovissimo video e ragazzi siamo al podere come vedete e siamo qua nell'orto delle zucche ragazzi ci abbiamo di quelle zucche strabilianti e che l'istrice ce le mangia e quindi siamo venute tutti a recuperarle ragazzi vi farò vedere qualche zucca che ci abbiamo che chissà quanti minestroni arancioni come li chiamo io facciamo e quanti risotti qua devi fare lo slalom ok qua c'è una zucca napoletana enorme eccola qua guardate qua ragazzi come è grossa, ora la prendiamo via allora oddio aspetta venga forse la forbice guardate qua ragazzi che bestione c'è guardate qua ragazzi che bestione c'è tutto è lungo quanto il mio busto quasi allora ragazzi lo andiamo a mettere a posto no aspetta forse è meglio il casco ok ok ora ragazzi la andiamo a mettere a posto ecco qua vedete ragazzi quante ne abbiamo salvate anche qua ci abbiamo un altro bestione che facciamo andare via ora andiamo a prendere una bella zucca mantovana aspettate che l'avevo vista prima che ce n'era una enorme ora la devo ritrovare eccola la eccola la giù ragazzi è proprio arancione come quelle di Halloween qua le melanzane sono state e oddio che brigone che c'è come grosse questo le galine sai come se lo papano perfetto ecco qua ecco questi pantaloni ok ragazzi questi pantaloni che sono tutti sudati oddio che ragno che sono tutti sudati non riesco ad alzare perfetto ragazzi noi con la raccolta delle zucche intanto abbiamo ucciso un ragnetto con la raccolta delle zucche abbiamo finito e mi raccomando speriamo che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e a un prossimo video ciao raga e commentate se vi piace il minestrone arancione ciao